eccoci di nuovo qui su mac i tech pronti a fare l'unboxing di altri due telefoni ormai si andiamo avanti a coppia di due non ci fermiamo più telefoni che arrivano direttamente dalla francia e il produttore di questi telefoni si chiama vkeyword o anche noto come vkword andiamo a aprire la confezione e speriamo di non essere fregati perché al tatto ho qualche dubbio ragazzi pregate per me procedo con la nostra fida forbice ho proprio paura ho proprio paura di essere stato fregato ormai me la sono chiamata talmente tante volte che potrebbe essere la volta buona ho paura ho paura andiamo a strappare tutto da una sbirciatina qui c'è qualcosa c'è un altro pacchettello pieno di bambetta e qui un altro pacchettello a forma di scatoletta e oh ragazzi sembra se c'è anche qualcosa forse c'è qualcosa forse speriamo ce ne sono due vedete vediamo se riuscite a capire quali sono vi dico solo che uno va velocissimo per modo di dire e l'altro è la continuazione di una serie già esistente della vkeyword con quale procediamo dei due? quello rosso o quello blu? lo mettiamo qua così e faccio la conta ambrabaci cicocco non so perché ma mi viene voglia di aprire prima questo perché al tatto lo sento bello bottato vedete addirittura quanto rientra dentro il pacchetto aiuto 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 vkeyword vediamo un po' di cosa si tratta qualcuno di voi nei commenti aveva richiesto un telefono della vkeyword e noi siamo andati subito a prenderlo per accontentare le vostre richieste vediamo un po' cosa è qui oh forse avete già notato ragazzi l'avete forse già intravisto era quello che dicevo che va più veloce è talmente veloce che è tutto bottato avrà fatto qualche incidente probabilmente durante il trasporto ha mancato il cordolo è andato a sbattere eccolo qui ragazzi infatti vedete che che botta che ha preso speriamo bene vkeyword formula 1 velocissimo ragazzi talmente veloce che guardate l'aerodinamica si è modificata da quanta potenza ha apriamo la scatola sperando che sia davvero tutto in ordine speriamo bene l'unico modo per scoprirlo è certamente quello di andarlo a aprire lo andiamo quindi a spacchettare mamma mia guardate che botte ragazzi ho i brividi speriamo che la struttura in carbonio in fibra di vetro abbia resistito chiaramente stiamo parlando di una formula 1 abbiamo qui sotto il telefono quindi tra l'altro avete visto era praticamente qui sopra chissà quante botte ha preso mamma mia questo motorhome diciamo che non è il massimo mamma mia mamma mia poi abbiamo un po' di istruzioni chiaramente vedete Wookiee World Formula 1 chissà Bernie Eccleston cosa ne pensa abbiamo poi qua dentro vediamo cosa ci hanno infilato una pellicola da applicare al vetro dello schermo e qua abbiamo il classico a garanzia manualetto quick start va bene che non ci interessa molto abbiamo poi il cavo usb micro usb per andarlo a ricaricare e collegare al computer che poi cos'altro abbiamo non abbiamo entrato no no mancava questo mancava il caricatore che è da vediamo un po' se riusciamo a aprirlo senza distruggere troppo tutto eccolo qui avremo un caricatore sicuramente non mi aspetto grandi cose infatti 5 volt con 1 ampere quindi il classico telefono entry level andiamo quindi a aprire il Wookiee World Formula 1 speriamo che non mi sfuga dalle mani con una sgommata mamma mia intanto è incredibilmente piccolo mamma mia mi sembra di essere tornato indietro anni luce addirittura si tiene benissimo con una mano abbiamo 4.5 pollici di display era da una vita che non li vedevo più quindi la sensazione devo dire è fantastica guardate che il mio dito dove arriva copre tutto con un dito con il dito pollice arrivo praticamente in ogni angolo dello schermo meraviglia e stupore come si suol dire abbiamo qua sulla sinistra praticamente nulla vedete è completamente pulito sotto abbiamo il microfono sul lato destro abbiamo il bilanciere di volume tasto accensione spegnimento sopra abbiamo la ricarica quindi è posizionata sopra e non sotto la micro usb per ricaricarlo e il jack delle cuffie da 3.5 e le sim ma certo ragazzi ci sono anche le sim è un dual sim questo telefono supporta le reti 3G quindi chiaramente è un dual sim stand by quindi funzionano tutte e due però quando ricevete una chiamata l'altra si mette in pausa abbiamo un mediatek 6580 quad core a 1.3 gigahertz beh io direi di andare a tirar via anche la pellicola in modo che si possa vedere il display ok vi dicevo che a bordo abbiamo un quad core a 1.3 gigahertz il mediatek 6580 staremo a vedere come funziona abbiamo 8 giga di rom interni 1 giga di run quindi il minimo indispensabile abbiamo uno schermo capacitivo touch ovviamente a due dita abbiamo poi come vi ho detto uno schermo da 4.5 pollici con una risoluzione di 854 per 480 pixel allora devo dire che in mano la prima sensazione è buona nel senso che era da tanto tempo che non tenevo un telefono così bene in mano grazie anche alla sua dimensione veramente contenuta lo spessore non è proprio sottilissimo però il fatto che sia così stretto diciamo aiuta comunque a tenerlo bene in mano dietro abbiamo una fotocamera che è da 5 megapixel abbiamo anche il flash led con l'autofocus ma chissà come andrà non credo ci siano grosse aspettative sotto abbiamo il simbolo della VK World o meglio il marchio Bernie Eccleston ci ha messo l'F1 poi sotto abbiamo lo speaker l'autoparlante di sistema abbiamo la fotocamera da 2 megapixel abbiamo la capsula auricolare abbiamo un altro flash chi lo sa probabilmente si ma cosa vogliono fare con 2 megapixel sotto abbiamo i tasti che sono a scocca sotto il display quindi sono soft non sono fisici probabilmente non sono neanche elettronominati anzi sicuramente che dire ragazzi io questo telefono vi dico già ve lo anticipo l'ho pagato 45 euro quindi davvero ottimo come prezzo è chiaramente tutto in plastica non c'è nulla comunque i tasti non hanno gioco quindi l'assemblaggio non mi sembra poi così male andiamo magari aprire un attimo la cover posteriore per capire dentro come è fatto mamma mia che dura che è ragazzi qua spago tutto ecco ce l'abbiamo fatta senza distruggerci le mani abbiamo la batteria che adesso caviamo per cercare di capire sotto cosa abbiamo avete visto che vabbè a parte tutti gli e-mail abbiamo il supporto diciamo alla rete 3G non abbiamo 4G abbiamo però un 2SIM come vi dicevo la batteria è da 1850 mAh qui abbiamo lo slot per la sim classica quindi formato grande non è né micro né nano è quella grande a fianco abbiamo invece una micro sim e a fianco abbiamo l'espansione di memoria fino a 32 giga quindi non dovrete rinunciare ad alcuna sim per andare a espandere il telefono cosa che peraltro è obbligatoria nel senso con 8 giga di rom farete ben pochi quindi sicuramente apprezzabile il fatto che non dovrete rinunciare ad alcuna sim andremo adesso a utilizzarlo in questa settimana e vedere un po' come funziona chiaramente è un telefono sicuramente entry level probabilmente come secondo telefono potrebbe andare bene adesso lo scopriremo se siete curiosi chiaramente di scoprirlo insieme a noi vi invito a rimanere qui su Macatech iscrivervi al canale mettere un bel pollice alto e condividere il link di questo video ai vostri amici per far conoscere Macatech un saluto da Matteo e Wookie Formula 1 per Macatech ciao rimanete con noi su questo canale per andare a vedere come funziona questo Dugit 6 e scopriremo presto se questo Dugit 6 funziona bene o male se volete essere avvisati non appena uscirà la recensione mi raccomando iscrivetevi al canale mettete un bel pollice alto e condividete il link di questo video per far conoscere Macatech grazie a tutti